Signori buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai, io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale. Nello scorso episodio dell'arte del masteraggio abbiamo parlato di backtracking e di come volutamente o non volutamente a volte il party degli avventurieri è costretto a tornare sui propri passi e andare nuovamente in una zona del dungeon in cui era già passato. In un dungeon non lineare questo potrebbe accadere perché i giocatori devono finire di esplorare ancora delle zone o devono accedere a determinate aree di una zona che erano rimaste bloccate ma anche in un dungeon estremamente lineare questo momento prima o poi avverrà semplicemente perché i giocatori che abbiano finito il dungeon o che si siano trovati problemi insormontabili che gli impediscono di proseguire decideranno semplicemente di tornare verso l'ingresso per andarsene da lì. Se stiamo parlando di un dungeon molto piccolo, di un dungeon non lineare, questo potrebbe semplicemente essere il party dichiara che vuole uscire e il master semplicemente introduce la scena successiva. Ma se stiamo parlando di un dungeon complesso, non lineare o magari un vero e proprio mega dungeon, anche solo il fatto di voler tornare indietro nella zona precedente potrebbe rivelarsi essere molto più problematico di quello che gli avventurieri in realtà si aspettano e questa settimana andiamo proprio a parlare di uno dei possibili problemi che il master può mettere sulla strada degli avventurieri quando per qualunque motivo sono costretti a tornare sui propri passi all'interno del dungeon che stanno esplorando. Il titolo del video lo avete visto, questa settimana andiamo a parlare di come e soprattutto di perché ripopolare il dungeon. Per quanto possa sembrare banale iniziamo dando una definizione. Cosa si intende quando si parla di ripopolare il dungeon? Man mano che gli avventurieri procedono nell'esplorazione del dungeon, si troveranno di fronte a problemi che in qualche modo devono superare, che siano incontri coi mostri, trappole, puzzle da rompicapi o quello che è. In base a qual è la natura di questo dungeon presenterà avversità diverse ma in un modo o nell'altro il dungeon metterà alla prova le abilità dei personaggi dei loro giocatori. Dando per scontato che il party abbia successo, nel caso si dovesse mai trovare a tornare verso una di queste zone i cui pericoli e prove sono stati superati, la zona in teoria dovesse relativamente tranquilla. I mostri saranno stati uccisi o incapacitati, le trappole sono state disinnescate, i rebus risolti e comunque tutto quello che prima era un ostacolo per l'avanzata degli avventurieri adesso sarà stato risolto e quindi non dovrebbe più essere un problema. Se questo è qualcosa di estremamente positivo per i personaggi in realtà non lo è affatto per i loro giocatori, il motivo per cui i giocatori giocano è proprio quello di vedere sfidate le loro abilità o comunque di far fare ai loro personaggi qualcosa di interessante o emozionante e camminare in un dungeon vuoto in cui non succede niente per definizione non lo è. Per un dungeon estremamente lineare o di dimensioni estremamente contenute, magari una caverna naturale fatta solo di una o due stanze o magari un singolo edificio, in realtà il problema non si pone. I giocatori dicono che vogliono tornare indietro, che vogliono uscire dal dungeon e semplicemente il master farà un salto temporale e riprenderà a descrivere dalla prima scena utile che sia gli avventurieri che si ritrovano fuori o magari che sia direttamente gli avventurieri che sono tornati al loro villaggio, la loro base, la loro astronave, quella che è, comunque ore o giorni dopo, e gli avventurieri ora sono alle prese con la vendita dei tesori o qualunque sia la conseguenza dell'aver esplorato il dungeon. Se questo viene fatto per evitare di perdere tempo con descrizioni di scene inutili, se viene fatto per una struttura molto più imponente o per un vero e proprio mega dungeon, potrebbe portare dei problemi di coerenza e verosimiglianza all'interno della storia. I giocatori magari hanno impiegato settimane in tempo di gioco per addentrarsi nelle profondità del mega dungeon, poi dicono che le loro risorse scarseggiano e meglio che cominciamo a pensare di tornare indietro e nella scena dopo sono seduti in taverna a raccontare agli altri avventori e le loro avventure. Quello che si ottiene sarebbe come se l'uscita del dungeon fosse semplicemente pochi metri più in là che sarebbe in diretta contraddizione con tutto quello che è stato narrato in precedenza. Uno dei metodi per evitare questa incoerenza interna nella narrazione e evitare che i giocatori perdano il loro senso di immersione nella trama è appunto quello di mettere in pratica dei meccanismi che permettano di ripopolare il dungeon. Nei video precedenti abbiamo detto più volte che man mano che il mega dungeon diventa più grosso dovrebbe cominciare a essere considerata una vera e propria zona geografica della mappa più che una struttura. Di conseguenza dovreste trattare le creature che lo popolano i suoi pericoli con la stessa logica con cui trattereste i pericoli di una zona geografica per qualche motivo rischiosa. Se gli avventurieri addentrandosi nella giungla per cercare l'antico tempio durante il loro viaggio d'andata sono stati assaliti da una tigre che è saltata fuori da un cespuglio, questo non vuol dire che durante il loro viaggio di ritorno dopo aver trovato l'antico tempio non possano essere assaliti da un'altra tigre dentro un altro cespuglio. Dopotutto anzi era evidente per loro che quella fosse una zona popolata da tigri ed è improbabile che in tutta la giungla ce ne fosse una sola. Allo stesso modo il master doveva prevedere che il mega dungeon abbia un suo ecosistema di prede predatori popolato da creature che siano coerenti con quello che si prevede per il mega dungeon all'interno della vostra ambientazione ma che comunque anche il fatto che i giocatori possano aver eliminato delle creature durante il loro viaggio d'andata questo vuol dire semplicemente che man mano poi le zone sono state popolate da nuove creature che si sono espanse nel territorio lasciato vuoto. La serie di tunnel verticali che erano stati scavati dal Beholder per farne la sua tana dopo che il Beholder è stato sconfitto, il suo tesoro rubato e gli avventurieri se ne sono andati adesso sono diventati la tana di una nidiata di Vermiliena che dato che il mostro più pericoloso ha stato sconfitto adesso hanno potuto entrare nel nuovo territorio senza grossi rischi per loro. Se poi parliamo di creature senzienti se non vere e proprie società organizzate magari direttamente civilizzate la cosa diventa ancora più ovvia. Per poter superare il ponte che dà accesso ai livelli più profondi del mega dungeon gli avventurieri hanno dovuto sconfiggere lo schiavista Draw e i suoi soldati asserviti e quando dovranno tornare indietro dovranno ripassare da quel ponte ma nel frattempo la locale clave Draw che erano quelli che hanno mandato lì lo schiavista a difendere il ponte si sarà accorta che il loro agente non ha mai fatto rapporto avranno mandato qualcuno a controllare avranno scoperto che lo schiavista è stato sconfitto e adesso il ponte è sguarnito e avranno cercato di fare qualcosa in proposito. Quindi quando gli avventurieri ritorneranno a quel ponte per tornare verso la superficie non solo troveranno altri draw ad aspettarli ma probabilmente adesso saranno meglio armati meglio equipaggiati o anche solo in numeri superiori perché i draw si sono resi conto che le loro difese avevano una falla e avranno fatto qualcosa per tamponarla. Senza raccontare che i draw non solo si sono accorti che il ponte adesso è sguarnito ma non ci vuole un abaco a capire che qualcuno deve aver sconfitto il loro agente quindi non solo avranno rinforzato le loro difese ma probabilmente avranno anche mandato qualcuno a indagare su chi è questa gente e perché si sta addentrando nel loro territorio. Quindi è probabile che i personaggi sulla via del ritorno anche prima di arrivare al ponte incontrino delle squadre di cacciatori di taglie o quello che è comunque agenti che i loro nemici hanno mandato per catturarli o semplicemente per scoprire chi sono. Potenzialmente l'esplorazione del dungeon da parte degli avventurieri potrebbe aver volontariamente o involontariamente favorito un'altra fazione. A un livello più banale gli avventurieri potrebbero essere lì proprio per quello. L'enclave dei nani che vuole fondare una colonia all'interno a determinata zona del mega dungeon ha assunto gli avventurieri per andare a ripulirlo e quindi man mano che gli avventurieri avanzavano nel mega dungeon i nani li seguivano. Adesso che gli avventurieri stanno tornando indietro sulla loro strada troveranno magari il villaggio che i nani hanno fondato e che gli avventurieri hanno proprio stati mandati lì a liberare il territorio per poter fondare. Questo potrebbe essere una cosa positiva perché adesso sulla via del ritorno ci saranno i loro alleati. Questo non vuol dire però che la cosa non potrebbe essere totalmente involontaria da parte degli avventurieri. Dopo che gli avventurieri hanno sconfitto l'Aboleth che viveva nel lago sotterraneo una locale tribù di Quatoa si è spostata in quel lago e ha piantato le sue parafitte perché finalmente adesso possono accedere alla grossa massa d'acqua senza rischiare di essere schiavizzati dal mostro che ci viveva dentro. A seconda di qual è il rapporto degli avventurieri con questa terza fazione le cose per loro potrebbero essere estremamente positive ma anche estremamente negative. Se le azioni che gli avventurieri hanno compiuto all'interno del dungeon sono state per qualche motivo favorevoli per i Quatoan i Quatoan potrebbero accoglierli e magari anche commerciale ma se tutte le volte che hanno incontrato i Quatoan hanno cercato di ammazzarli probabilmente adesso per quanto i Quatoan possano essere riconoscenti per avergli dato a New Real Estate non saranno particolarmente felici di vedere gli avventurieri avvicinarsi al loro villaggio dove ci sono le loro uova e quindi potrebbe rivelarsi una pessima situazione per gli avventurieri di ritorno. Al di là di mantenere la verosimiglianza nell'ambientazione la ripopolazione del dungeon ha anche degli scopi pratici all'interno dell'ottica della quest. Primo tra tutti è quello di mantenere l'attenzione dei giocatori sempre alta e quindi rendere interessanti da navigare anche zone del dungeon che per un motivo o per l'altro sono già state navigate in precedenza. Sapendo che anche se una zona del dungeon è già stata pulita questa può venire ripopolata e quindi se i giocatori dovessero ritornarci ci troverebbero nuovi avversari e soprattutto nuovi tesori è un modo per fare capire al party che il backtracking non sia qualcosa di intrinsecamente negativo anzi potrebbe essere favorevole per loro tornare a riesplorare zone che hanno già esplorato. Di che cosa sia il backtracking mi ha già fatto nello scorso video ve lo lascio qua se dovete andarlo a recuperare non perdiamo tempo in questo che è già lungo. Potenzialmente questo è anche un modo che il master ha per giustificare all'interno del gioco un riciclo di mappe soprattutto per quelli che giocano in presenza e quindi il master magari deve fisicamente disegnare una mappa se non proprio costruire una mappa tridimensionale per muoverci le pedine dei giocatori sopra. Se il master sa che una particolare zona del dungeon sarà particolarmente trafficata e quindi i giocatori ci entreranno più volte perché continua a ripopolarsi potrebbe essere un'ottima scusa per creare una mappa migliore più dettagliata e magari anche più grande sapendo che il tempo in più che ci ha messo per farla avrà valore perché quella mappa sarà utilizzata varie volte nel corso dell'arco della quest o della campagna. Come mi è capitato più volte di dire ogni volta avete la possibilità di riciclare materiale fatelo perché come master la vostra risorsa più scarsa è il tempo e qualunque cosa vi permetta di risparmiare tempo normalmente è qualcosa di positivo. Ovviamente quelli citati in questo video sono semplicemente degli esempi. Ogni dungeon e ogni mega dungeon in realtà fanno una storia a sé quindi dovete essere voi come master a valutare come e quando e quale sia il metodo migliore per ripopolare il mega dungeon che voi state masterando in quello specifico momento. Di conseguenza adesso la parola sta a voi scrivetemi qui sotto nei commenti quali sono i vostri metodi per ripopolare il dungeon se vi è successo di averlo dovuto fare e come è andata a finire. Come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividete l'ho caduta crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate il server di disco del gruppo i telegram dove metto io i video manualmente e dove si riunisce anche il resto della community e del master CAE. Io sono il master CAE e noi ci vediamo nel prossimo video.